«Ho commesso un errore a Temptation Island». Durante la sua permanenza a Temptation Island, Perla Vatiero ha manifestato il suo disappunto nei confronti di Mirko Brunetti, accusandolo di essere apatico e noioso, anche nella loro sfera privata. Tuttavia, al grande fratello, i due hanno avuto un chiarimento. Mentre si trovavano a letto con Ciro e Angelica, Perla e Mirko hanno discusso delle dichiarazioni fatte da lei nel reality di Maria De Filippi. Metti un like ed iscriviti al canale per nuovi aggiornamenti sul grande fratello. Il chiarimento tra Perla e Mirko. La nuova concorrente ha spiegato il significato delle sue parole. Posso aver sbagliato nell'esprimermi, ma voglio chiarire. Non ho detto che sei sempre stato apatico. Altrimenti, sarei stata con te per cinque anni? Sei diventato così solo negli ultimi mesi. Questo volevo dire, non che sei sempre stato noioso. Anzi, non l'ho mai inteso in quel modo. Sono contenta che siamo riusciti a chiarirci. Mirko ha risposto positivamente. Ah, capisco. Va bene così, perché io non sono apatico. Lo sfogo di Perla a Temptation Island. Per me è noioso, lui è un ragazzo fiacco. A volte non lo capisco e mi fa perdere la pazienza. Sono stanca di questa situazione, perché io sono una persona dinamica che ama fare sempre qualcosa. Quando mi annoio, capisco che le cose non vanno bene. Ed è anche per questo che siamo qui. Sono una persona passionale, anche in questo. Ma come va la nostra vita privata da quel punto di vista? Non bene, ultimamente passano settimane senza novità. Lui è così, e io perdo interesse. Anche in situazioni intime tra noi in camera, lui si comporta allo stesso modo. Dopo, finisce e subito ha il telefono in mano. Vorrei più passione, più iniziativa anche in quei momenti. Per chi è così? Fondamentalmente perché è un ragazzo apatico e pigro. Non lo ammette, ma è la verità. Quando affrontiamo il problema, lui incolpa altri fattori e non si prende responsabilità. Faccio riflessioni personali. Sono qui da più di una settimana e non mi manca come pensavo. Pensavo che mi sarebbe mancato di più e che non ce l'avrei fatta. Invece, sto bene e non ho crisi. Anzi, dormo meglio qui con voi che a casa con lui.